Eletto il nuovo segretario provinciale della UIL-PA, pubblica amministrazione, nel corso del sesto congresso provinciale, si tratta di Maurizio Giunta, che prende il posto dell'uscente Domenico Saporito, il quale ha maturato un'esperienza di circa 40 anni nel sindacato e che viene nominato presidente UIL-PA provinciale. Lo stesso con il suo intervento ha anche aperto i lavori del congresso svoltosi in città nella mattina del 20 maggio. Un lungo incontro in cui sono state affrontate differenti tematiche inerenti al comparto della pubblica amministrazione, facendo riferimento anche alle difficoltà affrontate a causa del periodo pandemico e ai risultati positivi registrati durante le elezioni per il rinnovo delle RSU, le rappresentanze sindacali unitarie. Diversi gli interventi che si sono susseguiti durante l'evento, moderato dal neoeletto segretario provinciale Maurizio Giunta, come quello di Alfonso Farruggia, segretario generale UIL-PA Sicilia e Palermo, e di Federico Trastulli, segretario nazionale UIL-PA, a cui sono state affidate anche le conclusioni. Al congresso hanno partecipato i delegati designati del personale civile contrattualizzato del Ministero dell'Interno in servizio presso la Prefettura e la Questura, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Archivio di Stato, dell'Inps, dell'Inail, dell'ACIPRA e del Tribunale dei Minorenni. Al termine dei lavori sono stati nominati anche i componenti effettivi della segreteria provinciale generale UIL-PA, e cioè Michelangelo Patanè, che è anche segretario generale provinciale UIL-Interno per il personale civile contrattualizzato iscritto in servizio presso la Prefettura, la Questura e i commissariati della Polizia di Stato, e Lucia Maruzzelli, nonché segretario provinciale sindacale presso l'Archivio di Stato.